Musica Conferenza stampa di presentazione della trasferta del Prato che sarà di scena nella 25esma giornata del campionato di storia di giorni di Altulio Morgagni di Forlì per affrontare la formazione bianco-rossa seconda e classifica. Ne parliamo con il coordinatore tecnico Claudio Channamè, allora Prato-Reduce da tre vittorie consecutive, adesso questa gara di Forlì sa tanto di prova del 9 perché comunque la formazione bianco-azzurra va a giocare scontro la seconda forza del campionato. Sì, è una partita veramente complicata perché comunque è vero che noi veniamo da tre vittorie consecutive però non ci dobbiamo dimenticare quello che è il nostro obiettivo che è quello di raggiungere una salvezza nel più breve tempo possibile anche perché vogliamo dare valore al lavoro che abbiamo svolto fino adesso. Credo che arriviamo a questa partita con un ottimo stato mentale perché quando arrivi con tre vittorie consecutive non si può certo dire che non sia così, sicuramente giocheremo contro una squadra importante che dovremo ovviamente rispettare ma come ho sempre detto noi non dobbiamo fare troppo caso a quella che è la classifica delle squadre perché possiamo trovare difficoltà anche con l'ultima in classifica, la penultima, qualsiasi avversario esso sia perché ogni partita ha la sua storia quindi assolutissimamente nessuna paura, nessuna classifica da guardare è una partita che ci giocheremo dal primo all'ultimo minuto con la consapevolezza di voler portare a casa dei punti perché comunque abbiamo fatto tre vittorie, non ci bastano, sicuramente vogliamo e possiamo fare di più dovremo semplicemente andare lì e dare battaglia perché comunque fare anche quattro vittorie di fila sono sincero, forse un po' presuntuoso, non lo so, però credo che deve essere un obiettivo, una voglia perché è bello vincere, soprattutto è importante, dà valore al lavoro e come ti dico è tanti anni che comunque qui non si vedono quattro vittorie di fila, quindi deve essere un obiettivo che dobbiamo avere e che vogliamo raggiungere, quindi sono molto sincero Il Forlì ha avuto un inizio di campionato un po' travagliato, ha cambiato allenatore via Martini, ecco al suo posto Antonioli, poi ha saputo ritrovare la quadra, ha saputo risalire la classifica e adesso viene da un periodo estremamente positivo, due vittorie consecutive che Forlì ti aspetti domenica al Tullio Morgagni? Mi aspetto sicuramente il Forlì che dimostra la classifica che ha, ovvero un Forlì che gioca compatto, con tante frecce a disposizione per poter portare la partita in porto che cercherà dal primo minuto di incanalare la partita verso quello che loro cercano la vittoria che li possa avvicinare alla vetta perché al posto loro la penserei lo stesso modo quindi sicuramente mi aspetterò un Forlì che cercherà dal primo minuto di sbloccare la partita dall'altra parte troverà comunque forse l'avversario più scomodo e dovrà trovare l'avversario più scomodo perché noi veniamo da tre vittorie e non vedo niente che in questo momento ci possa far pensare dalla possibilità di non portare a casa una vittoria per cui sicuramente sarà una partita complicata per noi ma lo sarà anche per loro Situazione dell'infermeria in vista di questa gara del Morgagni di Forlì fai un po' il punto sui giocatori che saranno a disposizione del tecnico Maurizio Ridolfi che ritrova dopo la squalifica Sadek Allora sì, ritroveremo Sadek per questa partita perché era stato squalificato oltre ai lungodegenti come Cela e come Sowe abbiamo ancora Oliverio che non è al meglio ma dovrebbe rientrare intorno alla metà di marzo dall'infortunio che l'ha tenuto via fino ad ora, insomma il problema al menisco poi abbiamo Cecchi in fase di recupero che dovrebbe reaggregarsi alla squadra settimana prossima dopo un problema muscolare e abbiamo da valutare alcune situazioni di Preci e Bonetti è capitato un po' al momento, insomma, in questi giorni vediamo un attimo, insomma, al momento quelli che ci mancano sono questi poi l'organico è quello di sempre e spero ovviamente che salvo cose dell'ultimo minuto ovviamente di cui facciamo gli scongiuri, insomma, di essere questi, ecco In sala stampa anche il collega di Prato Race, Roberto Nardi la domanda per Claudio Scernamè Allora, inizia oggi il mese di marzo che prevede cinque partite quindi giocheremo cinque partite tutto il campionato naturalmente nello spazio di poco più di venti giorni venticinque giorni fra cui anche diversi scontri diretti potrebbe essere, diciamo, un mese decisivo per il Prato Sì, il calendario è fitto perché comunque ci saranno delle partite ovviamente la partita prima di Pasqua, di giovedì però comunque sono partite di spessore perché troveremo il derby troveremo la partita ovviamente importante da giocare in casa col San Donnino per quanto riguarda gli avversari diretti per la salvezza e giocheremo con l'Imolese, con il San Giuliano poi prima di Pasqua ma soprattutto, questo l'ho lasciato per ultimo giocheremo domenica a Forlì è un mese di marzo ovviamente importante per quanto riguarda gli impegni però ripeto, dobbiamo ragionare una partita alla volta come ho sempre detto perché guardare tanto in là non fa bene ma può portare ovviamente a pensieri che magari non ti fanno sviluppare bene quella che è la settimana che ti porta poi alla partita quindi noi ora come ora siamo concentrati alla partita contro il Forlì non pensiamo ad altre non pensiamo a programmi tanto più lontani però è ovvio che sarà un mese abbastanza intenso che è un mese abbastanza non pensiamo a programmi tanto più lontani Grazie per la visione!